weh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi quante ne stanno già succedendo in questa season fantastico ragazzi il fatto che già dopo pochissimi giorni dall'inizio della stagione numero 10 ci siano già dei cambiamenti e oltretutto l'inizio del primo evento ufficiale sono molto convinto che questa season ci riserverà davvero un sacco di sorprese alcune cose le abbiamo intuite alcune cose le stiamo capendo ma come vi ho appena detto ci sarà della dinamicità per quanto riguarda gli eventi e potrebbe essere un grande ritorno come quando si era nella season 5 e 6 dove per tutta la durata della stagione succedeva sempre qualcosa in giro per la mappa nel video di oggi ragazzi parleremo della possibilità di avere il ping più basso importantissimo tutti noi vorremmo avere il ping il più basso possibile da fra qualche giorno qualche settimana si potrà e vi faccio vedere in che modo ma parleremo anche del nuovo cecchino perché adesso arriverà la prossima settimana una delle due nuove armi che sono inserite nei file di gioco sappiamo che c'è già la mitraglietta automatica credo sia automatica non a raffica ma arriva anche il nuovo cecchino automatico ho delle immagini in game davvero molto molto carine e poi ovviamente approfondiamo l'evento visitor il bacon rift quello che vi ho fatto il rift bacon adesso quello che vi ho spoilerato nel video di ieri mattina che poi dopo pochissimo è stato presentato ufficialmente in game con questa roba un po strana ne andremo un attimino ad approfondire voglio però prima ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportare il canale quando sciopazzate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima prima di iniziare il video ve la devo fare non posso non farve la porca gioffa la domandina questa ragazze è pericolosa non mi non date di commenti perché non riesco a mettervi i cuori a tutti grazie però per commentare sempre qua sotto alle domande ve la faccio ve la faccio qual è l'oggetto più raro che hai di fortnite non sto parlando di skin e basta potrebbe essere un piccone uno standardo una skin quello che ti pare cos'è la cosa più rara che avete io ci ho pensato un pochettino e credo che il mio oggetto più raro sia il maco livello 30 se non ricordo male del prima season non penso di avere qualcos'altro più raro di questo ma quindi ciancio levante e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere un attimo quello che sta succedendo nella mappa come vi ho anticipato poco fa ci saranno tantissimi cambiamenti in questa season che è molto corta comunque il 6 ottobre già siamo al a guardare la season 11 e abbiamo nella mappa alcuni riferimenti alle location che torneranno qui siamo nella giungla vicino al al porto di laguna languide come vedete sopra la casetta c'è l'insegna del country club che fa riferimento ovviamente a passatempi pomposi andando un po più in fondo verso il fine della mappa dove ci sono scalini scatenati ragazzi invece andiamo a vedere l'insegna del cinema di rapide rischiose che anche questa preannuncia un ritorno imminente famosissimo il cesso gigante nel bioma del ghiaccio ragazzi lo troviamo sulla torretta che va a richiamare ovviamente laboratorio della latrina e per finire se andate vicino a gerusalemme passando vicino al corso del fiume c'è una delle casette con degli strani arbusti che escono dai muri e dalle finestre ed è un chiaro riferimento al ritorno di putrido pantano state pronti perché so che molti di voi non hanno mai visto alcune di queste location putrido è sparito veramente tanto tempo fa oramai aspettatevi di vederne delle belle ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed eccolo qua xuder dove cavolo sei ragazzi questa è un'immagine in primissimo piano del rift beacon vorrei un attimo condividere mentre parliamo con voi un video eccolo qua ragazzi facciamo un attimo il punto della situazione intanto per tutti gli og player oramai quelli che c'erano nella season 4 nuovo rift in cielo lo squarcio temporale che tutti sappiamo porta delle cose allora vi sto dicendo che quando c'era putrido pantano si aspettava il mercoledì sera che apparisse l'oggetto nella season per capire che cosa era e allora era la carovana che c'è vicino a palmetto paradisiaco poi spuntò l'ancora quella che ancora c'è vicino alla cascata ghiacciata quando arrivarono i vichinghi poi spuntò un altro scheletro e adesso ragazzi il rift invece sembra che porterà un'intera città come vedete è il rift beacon quindi l'immagine la come si dice il macchinario crea un raggio alimentato a corrente corrente che non sappiamo da dove arriva o forse sì che crea appunto uno squarcio in alto e preannuncia l'inizio dell'evento come vedete un'altra particolarità voglio fermarmi qua perché è interessante questa immagine un'altra particolarità ragazzi è proprio il chiamiamolo pad in modo che riusciamo un attimo a capirci ve l'avevo già fatto vedere ieri questo padre ragazzi secondo molte persone è direttamente collegato con il visitatore i colori sono molto simili la forma è molto simile e ci sono già in questa season un sacco di riferimenti che ci fanno capire che il visitatore c'entra in qualche modo con quello che sta succedendo tra l'altro non so se lo avete visto ma all'impianto a pressione è stato trovato uno schermo acceso con altri colori che ovviamente non c'entrano nulla con i colori di dell'impianto a pressione e sono molto più riconducibili ovviamente ai colori del visitor quindi ragazzi occhi aperti vedremo secondo me settimana prossima cambia la city non credo che sarà in questa settimana perché il visitatore sta facendo le sue porcate e probabilmente anche noi le vedremo prestissimo e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed eccolo qua il nuovo cecchino automatico ne avevamo già parlato nella live quella dedicata al passaggio dalla season 9 alla season 10 sapevamo anche che c'era la nuova arma che per sbaglio era stata inserita nella modalità oro massiccio ed era la nuova mitraglia quella a raffica quel che c'è il caricatore un po più lungo un uzi ecco se volessimo essere più precisi rarità comune non comune e rara qua invece siamo al nuovo cecchino e abbiamo già dei dati ecco non mi piace subito quello che leggo medium bullets cecchino che funzionerà come il fucile a ripetizione che conoscevamo di già e che hanno tirato via quindi con i colpi medi sto dicendo una cagata perché i colpi medi li utilizza l'acog non l'altro fucile a ripetizione quindi un cecchino con i colpi medi non lo so 16 i colpi nel caricatore 3,5 secondi il tempo di caricamento e poi se andasse via il mio pop up da 31 a 35 il danno o meglio 35 nella variante leggendaria eccolo qua il nuovo fucilozzo 31 invece nella variante epica quindi ragazzi fucile di precisione automatico primo su fortnite che molto probabilmente arriverà prestissimo e chiudiamo il video di oggi parlando di ping finalmente uno dei cruci più importanti di noi giocatori di fortnite è come vi dicevo avere il ping il più basso possibile perché un ping basso oltre ad evitare lag ci può anche aumentare gli fps che sono visualizzati in game perché appunto non non c'è quella latenza tra l'invio dei dati e la ricezione perché il ping sarà più basso perché nei prossimi il prossimo mese massimo due mesi aggiungeranno un fottio di nuovi server anche vicini all'italia e quindi non ci collegheremo più al server centrale europeo ma per noi ci sarà il server di parigi che dovrebbe essere il più vicino ed effettivamente ragazzi il ping dovrebbe notevolmente abbassarsi altri server nuovi seul singapore ohio londra dublino taiwan mumbai belgio olanda montreal iowa e sud carolina verranno aggiunti per migliorare appunto la connessione e il gameplay in generale io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale un bel pollicione in su noi ci vediamo alle otto in live ciao